Sono sempre molto amareggiato quando ho la necessità di determinare la chiusura delle scuole, così come è stato tanto spesso per via di questa emergenza coronavirus. Purtroppo siamo in una fase approcita di aumento dei contagi. Siamo con la giornata di ieri arrivati a 40 positivi, con un più 8 che è stato registrato nella giornata di ieri e che purtroppo non si accenna a diminuire, perché alla fine rispetto a questi nuovi contagiati c'è un gran numero di tamponi che dovranno essere effettuati e quindi c'è comunque la circolazione del virus e come spesso abbiamo detto dobbiamo cercare di tutelare i più piccoli. Ho fatto la raccomandazione che nonostante le minori restrizioni da parte del Governo nazionale comunque ci sia il massimo della responsabilità da parte dei concittadini e credo che veramente a scuola con decine e decine se non centinaia di bambini coinvolti tutta la struttura, gli insegnanti, i collaboratori sarebbe stato un rischio che secondo me in questa fase non dobbiamo correre. Cerchiamo in questa settimana di chiarire, di capire bene qual è l'entità di questo possibile focolaio che riguarda l'isola di Proci e dopodiché se saremo tranquilli, se alla fine non ci saranno ulteriori ripercussioni potremo aprire in grande tranquillità il percorso scolastico. Mi rendo conto che questo è un sacrificio che stiamo chiedendo ai bimbi e alle famiglie, però dobbiamo considerare che il sacrificio lo stiamo portando avanti tutti insieme, ciascuno rispetto alle sue abitudini precedenti e credo che a scuola dobbiamo ritornare quantomeno in grande serenità e purtroppo serenità in questi ultimi giorni a Procita per via dell'emergenza coronavirus non ce n'è. Grazie. Grazie.